il fatto di avere installato explorer in questo ospedale è legato alla possibilità di poter far ricerca come istituto di ricovero e cura carattere scientifico in un ambito la medicina nucleare dove il sant'orsola è già un'eccellenza è già un riferimento a livello internazionale questa attrezzatura si pone proprio nell'ottica non solo di essere estremamente efficiente per la diagnosi ma per essere un'offerta nuova sul panorama europeo per sviluppare ricerca in tema di radiofarmaci e in termini anche di possibilità di studiare l'evoluzione delle patologie neoplastiche fin dagli esordi o fin diciamo alle recidive minime più post che oggi ancora non era possibile vedere quindi davvero una per noi uno sviluppo tecnologico incredibile siamo molto onorati di aver potuto installare questa attrezzatura per primi in europa e credo che il professor fanti e tutta la sua equip però se lo meritino perché hanno capacità di ricerca veramente incredibili